Ci sono anche tre minorenni nel gruppo di cinque persone arrestate in Puglia dagli agenti di polizia in quanto ritenute responsabili di aver compiuto una rapina in un supermercato e alla organizzazione del colpo avrebbe partecipato attivamente una ragazzina di 13 anni. Gli arrestati sono un uomo di 37 anni, un giovane di 19 e tre minorenni accusati di rapina mano armata in un supermercato a Palo del Colle. L'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di Bitonto mirata a contrastare il fenomeno delle rapine ai danni di esercizi commerciali ha permesso di individuare e fermare il gruppo subito dopo aver commesso il reato.